Carenze di personale, sicurezza di operatori cittadini e riorganizzazione della rete ospedaliera. Questi i punti chiave riguardanti il sit-in mattutino a Branca, dinanzi all'ospedale di Gubbio Gualdotadino, messi in atto da CGL e Cisle Will regionali, insieme al sindacato dei pensionati, per essere vicini a tutti coloro che lavorano nell'ambito sanitario e al contempo provare ad ottenere risposte da politica e istituzioni. Noi siamo qui con questa iniziativa che è inserita all'interno di un'avvertenza che stiamo portando avanti nei confronti della regione dell'Umbria per chiedere un potenzialmente assunzioni del personale, per chiedere sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche per chiedere il mantenimento delle prestazioni sanitarie per i cittadini umbri. Quello di Branca è il quarto presidio, dinanzi all'uso comi regionali dopo Spoleto, Terni e Città di Castello, e le prossime tappe interesseranno in sequenza gli ospedali di Foligno, Castiglione del Lago, Orviete e Pantalla. In primo piano le questioni lavorative degli operatori in prima linea in questo delicato periodo emergenziale, con due aspetti prioritari, quelli legati all'assunzione di personale e alla sicurezza. Gubbio è all'interno della nostra mobilitazione per far sentire la vicinanza ai lavoratori e ai cittadini e per continuare a protestare pur non fermandoci, perché è necessario che la regione del Lumbria trovi una soluzione per il reperimento del personale. Noi abbiamo una carenza di personale che ci trasciniamo, che in questo momento è ancora più evidente, perché non si riesce a garantire le prestazioni normali, quelle che tutti dovrebbero fare, quelle programmate, quelle di prevenzione, e si stanno allungando le liste di attesa e non si riesce a garantire la separazione tra Covid e non Covid. Anche all'ospedale di Branca noi viviamo una situazione in cui nella medicina c'è una promiscuità inaccettabile. Allora per poter garantire sicurezza ci vuole personale e noi continueremo a dirlo e a batterci per questo. Ci troviamo a fare tutti questi sit-in in tutti gli ospedali dell'Umbria, proprio perché i lavoratori devono essere messi nella massima sicurezza. È una problematica importante sentita dai lavoratori ma anche dai cittadini, perché la sicurezza del lavoratore si ribalta anche sulla sicurezza dei cittadini. Quindi noi chiediamo procedure, protocolli e percorsi chiari, precisi e puntuali. Questa è la nostra necessità e quindi dare tutte le garanzie ai lavoratori dal punto di vista della sicurezza, dispositivi e tutto quello che serve. Lavoratori che sono sia del territorio sia dell'ospedale, lavoratori di tutti i tipi delle categorie, OSS, autisti, infermieri, tecnici, anche gli amministrativi. Tutte le persone devono essere messe in condizione di lavorare in sicurezza per dare un servizio corretto, preciso e puntuale.